Allora, se potete vedere, si chiama Marco, qui c'è il caffè, quello che ha preso, e allora cappuccino hai preso, caffè latte, con due cose di zucchero ma non ha zuccherato la lettera, eh, moreno. Siamo qui oggi in, in England, in England, London, per visitare posti sconosciuti all'essere umano, non è vero però, va bene lo stesso. Come potete vedere qua ci sono dei tostapane, una barca, acqua bagnata, e qui dietro alla fotocamera c'è l'Eduz, che non è altro che il signor, lo stronzo, sì, deluxe, fenix, come ti chiami, colombus. Colombus? Ah, mi beccato. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro tour. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente, quindi continuate a seguirci nel nostro canale. E buon niente. 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 qua scusate se non ho fatto una conclusione giusta ma siamo nel futuro da dublino c'è stata una distruzione spazio-temporale e adesso siamo nel futuro in un altro posto a dublino che è il vlog che vedrete dopo questo edo e giuse dal futuro vi salutano da dublino lasciate un like un commento iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao